Poi c'è un'altra cosa bella ragazzi, qui se uno non fa sesso veramente e poi non ce la fa, o che sia femmina, o che sia uomo, che ha quelle tendenze lì, qui c'è un vibratore dell'iPhone che vi potete soddisfare, fate tutto quello che volete, senza danneggiare nessuno, oh, tanto ormai con la donna non si fa più sesso perché ti incominciano a dire sai, sai io ho paura di te, magari sei andato con qualcuno, ti sei attaccato alla malattia, ti sei accattato alla malingonia, con l'uomo dice ma quello lì avrà l'AIDS, un casino, come devo fare? Questo vi può soddisfare, non andate con più nessuno, questo qua potete morire di gioia, di amore e senza debolezza, senza debolezza, sentite a Leone Dilelli che vi dico la verità, prendete il vibratore che io so 50 anni che le faccio uso.